A nostri microfoni i vincitori di The Mecham Award, premi assegnato ai migliori buyers italiani e stranieri che al meglio hanno saputo valorizzare la calzatura made in Italy. Essere stati riconosciuti da operatori del settore, quale retailer di maggior successo e buyer di maggior successo sul mercato italiano è assolutamente un qualcosa che fa sì che i nostri sforzi vengano premiati. Grazie